Cristian Cerone con CC Logistica un percorso che abbiamo sviluppato insieme per la prima squadra ma soprattutto un tuo percorso dalla nascita fino adesso come tifoso della Pro Patria, un po' questo quello che ti ha spinto a coordinare un nuovo gruppo di lavoro per un nuovo settore giovanile? Sicuramente l'amore verso i colori bianco-blu e la possibilità grazie anche alla Presidente soprattutto con cui abbiamo già parlato anche presgai tanto per intenderci di voler comunque investire come Aurora Pro Patria su un nuovo settore giovanile, su un nuovo corso diciamo anche inserendo delle nuove figure per dare comunque un'impronta maggiormente professionale alla società per far sì come insomma si è detto anche in sede di presentazione di poter far nascere anche, di portare quanti più giocatori possibili nella prima squadra quindi sicuramente diciamo anche questo entusiasmo da parte della Prez mi ha contagiato diciamo e poi chiaramente tramite un po' di conoscenze, in primis mio zio che comunque sapevo del suo percorso della sua volontà anche comunque di mettersi in gioco proprio come responsabile del settore giovanile avendo già delle esperienze, delle qualifiche comunque passate più altre, più vabbè chiaramente Riccardo diciamo si è creata un po' nel giro di 20 giorni tutta questa situazione Riccardo che si è comunque ritirato dal calcio professionistico quindi porlo diciamo come sicuramente uomo immagine del nuovo corso settore giovanile Pro Patria e al tempo stesso anche come capacità professionali per quello che può essere anche un suo percorso personale futuro legato alla possibilità di fare eventualmente il direttore sportivo quindi più la conoscenza anche fatta recentemente grazie al buon Nicolò di Roberto Prini diciamo si è creato veramente dal nulla con queste tre figure la possibilità di mettere in pista appunto questi tre grandi professionisti ognuno per il proprio settore di competenza e mettersi in gioco tutti per appunto far sì che il settore giovanile della Pro Patria possa essere effettivamente equiparabile ad una realtà professionistica e quindi ripeto portare quanti più giocatori possibili in prima squadra Riccardo la prima vera intervista dall'altra parte del campo anche se poi sul campo ci sarai per dare consigli preziosi per cercare di portare i ragazzi ad effettuare un percorso che magari vada in parallelo con quello che hai fatto tu magari anche più importante ma sicuramente per creare un senso di appartenenza per questa maglia e tu sai cosa vuol dire Hai ragione Nico, guarda io ho giocato qua tanti anni sono cresciuto in questo settore giovanile ho avuto la fortuna di andare a giocare in Serie A quindi è quello che auguro a tutti i ragazzi sarò presente praticamente sempre ai allenamenti, alle partite cercherò di seguire i ragazzi il più possibile cercherò di dare magari qualche piccolo consiglio perché la strada è lunga però con impegno e dedizione penso che possiamo toglierci grandi soddisfazioni Abbiamo cognato un po' insieme questo ruolo general manager questo nome che è un po' più gestistico tra l'altro anche una delle più grandi passioni però che comprende e contiene bene quello che sarà Riccardo Colombo cioè non solo un ruolo tecnico e organizzativo ma anche un uomo simbolo, un ambassador di questo club Beh mi fa piacere le tue parole sicuramente sarò a 360 gradi coinvolto in questo progetto ringrazio il presidente, ringrazio Cristian che mi ha dato questa opportunità e questa fiducia perché comunque sento il peso della responsabilità perché non è una cosa facile però mi metterò come ho sempre fatto con impegno, serietà e mi darò al 100% per la Propatria per aiutare tanti ragazzi a realizzare il proprio sogno Salvatore Cerrone, nuovo responsabile del settore giovanile io partirei dal sentirsi identificato con questi colori perché tu hai avuto un percorso da giocatore ritorni qui da dirigente per un nuovo percorso partirei proprio dal lato emozionale e poi andare in scuola sportiva Infatti come giustamente hai detto tu c'è, l'emozione c'è perché questo posto, il spogliato e poi come ho detto anche prima in conferenza stampa chi veste questa maglia è una cosa particolare nel senso ti rimane dentro quindi ritornare qui è molto emozionante ma nello stesso momento mi rende felice e pronto per affrontare questo nuovo ruolo in maniera proprio, mi sono messo subito al lavoro cercando di portare avanti questo settore giovanile in maniera come gli compete come ho detto prima nel senso che io penso che la Pro Patria, Busto gli compete un settore giovanile importante importante è affrontare anche avere delle squadre competitive e affrontare appunto campionati importanti affrontarli tutti in stessa maniera e cercando di arrivare anche a fare dei risultati importanti ma soprattutto la cosa più importante poi è creare giocatori quindi creare giocatori per la prima squadra creare giocatori per anche arrivare a livelli più alti e quindi questa è una cosa che io ci tengo moltissimo quindi sono arrivato con questo entusiasmo e spero con i miei collaboratori di fare prima possibile è vero che abbiamo parlato di anno zero perché comunque abbiamo iniziato anche in il tardo per ovvi motivi ma nello stesso momento siamo partiti velocemente per cercare appunto già di un attimino pareggiare un po' i conti già per questa stagione ma prepararsi poi anche già a marzo dell'anno prossimo già a partire e a pensare già anche a quella prossima quindi ripeto sono molto contento emozionato di essere ritornato alla propatria e di essere qui in questo ruolo molto molto importante Roberto Prini responsabile organizzativo del settore giovanile spiegaci meglio quale sarà il tuo ruolo in questo nuovo inizio abbiamo parlato di un nuovo inizio per la prima squadra e un nuovo inizio anche per il settore giovanile sarà un ruolo condiviso con Salvatore Cerrone che è il responsabile tecnico e con Riccardo Colombo che sarà il general manager cercheremo di portare il settore giovanile agonistico e quello dell'attività di base della propatria dove la propatria si merita abbiamo le idee chiare in testa sappiamo bene quali sono le nostre sfere di competenza e abbiamo bisogno di lavorare tanto con calma e con grande serenità ma sono convinto che essendo i miei due compagni di viaggio e poi la presidentessa Testa e Cristian Cerrone che è il nostro grande nume a tutelare sono convinto che questa squadra farà molto bene e andrà molto lontano un ruolo che comprenderà il collante tra responsabili allenatori dirigente e accompagnatore quanto mai fondamentale per la buona riuscita in un settore giovanile ma anche poi gli allenatori i giocatori e i genitori Sì è un ruolo delicato non è il ruolo cui ero abituato io nella mia precedente esperienza perché mi occupavo principalmente di questioni tecniche qui ovviamente c'è gente che ne sa un bel po' più di me visto che hanno giocato in Serie A e hanno vinto degli scudetti mi riferisco a Riccardo Colombo e Salvatore Cerrone avrò bisogno della collaborazione di tutti in primis gli allenatori e i dirigenti accompagnatori oltre che i genitori perché insomma giocare per la propatria significa anche essere della propatria avere un atteggiamento e un comportamento da propatria manderemo come dire un codice etico forse una parolona però sicuramente delle regole poche, chiare precise però da rispettare per fare in modo che ogni ragazzo che entri o qui allo Speroni o nei campi di allenamento abbia davvero in mente che cosa significhi essere un giocatore della propatria grazie a tutti